buonasera a tutti gli amici della tonno calipo volley ricordo più bello sicuramente della finale della promozione e per quanto mi riguarda sicuramente il muro del 13 11 quando ormai sembrava tutto perso fatto da me e poi soprattutto vedere tutte quelle persone dopo la partita che hanno invaso il campo e vedere proprio questa quest'unione che si era creata questa felicità tra la città in un piccolo palazzetto e la squadra si era creata un'alchimia veramente bello saluto tutti quanti faccio gli auguri di andare sempre più avanti più in alto la tonno calipo ai dirigenti a tutti i tifosi ciao a tutti